Buongiorno, sono... e sono praticamente una paziente oncologica. Mi è capitato per ben due volte di seguito di non dover fare la PET. La prima volta sono stata avvisata il giorno prima, la seconda volta molto più grave, praticamente si è rotto il macchinario mentre ero sotto, quindi avevo già fatto le iniezioni e la flebo. È una paziente oncologica retina a raccontare i disagi di chi si ritrova a dover rimandare un esame così importante come la PET. Il reparto di medicina nucleare del San Donato di Arezzo sarebbe stato recentemente deglassato da reparto complesso a semplice e la PET-TAC, donata dal Calcet ormai 15 anni fa, sarebbe diventata un macchinario obsoleto. È ovvio che quando la PET si rompe perché c'è un guasto ad una qualche strumento, oppure quando il tracciante, qui non è colpa della PET, ma è colpa di chi invia il tracciante e se non viene consegnato, slitta tutto inevitabilmente come lista d'attesa. A raccogliere questo appello è stata la presidente dell'Associazione dei Medici Aretini durante l'organizzazione di un incontro proprio sulla medicina nucleare. Nei contatti per gli inviti a questo incontro sono uscite delle lamentele di persone che naturalmente più di una volta erano arrivate al San Donato per eseguire questo esame PET e erano dovute ritornare indietro senza aver eseguito l'esame. L'ASL avrebbe ormai due anni fa già segnalato ad Estar la necessità di acquistare una nuova PET. Estar, che è il braccio operativo funzionale, burocratico della regione, non ha in 25 mesi saputo confezionare un bando che se anche partisse domani sicuramente avrà dei mesi davanti. Noi mobilitiamo la città su questo perché non è accettabile, non è tollerabile ma soprattutto non è normale che una regione impieghi 25 mesi a fare un bando per una strumentazione che serve ai malati di cancro.